Il Gran Bazar di Magreglio compie un salto qualitativo e quantitativo con spettacoli, laboratori e quasi 200 espositori. Il 7 ottobre, con entrata libera, il visitatore potrà trovare non solo mercanti, produttori e hobbysti, ma assistere a numerosi spettacoli, concerti, tarocchi, massaggi orientali, mentre i bambini salteranno sul mega jumping e scivoleranno lungo il gonfiabile. Ci saranno occasioni di assaggio e acquisto di alimentari anche direttamente dai produttori e bio. Ristoranti e associazioni locali proporranno birolle, tuc, torte, vin brulee e degustazione di vini dentro e fuori il centro sportivo. Al Ghisallo arriveranno bijoux realizzati con erbe brasiliane o bucce di arancio, coltelli e coltellini di pregio, fular in pura sete e cineserie. Lungo la discesa che collega il Ghisallo al centro sportivo troveranno spazio baccoli in legno, bastoni realizzati alle mani di un abile artigiano, strumenti musicali vintage, angeli in stoffa e centinaia di altri oggetti. All'entrata del parco Villa Romeo, lungo la stessa via, si potrà conoscere la pittura e la storia di Eugenio Spriafico, pittore monzese di fine Ottocento, morto a Magreglio, al quale l'amministrazione ha dedicato la romantica scalinata che porta ai Castagneti. All'inizio di Via Romeo scopriranno pregiati orecchini con pietre, gemme e metalli provenienti da ogni parte del mondo. Più avanti saranno esposti i prodotti dell'artigianato etnico africano e sudamericano, tra abbigliamento, arredamento e quant'altro non può mancare. Tra gli imperdibili i massaggi, negli spogliatoi del pali invernizi e il laboratorio di cosa d'argilla sotto il porticato della palestrina del centro sportivo. Non mancheranno i carabinieri con il furgone attrezzato e la consegna del diploma del piccolo carabiniere ai bambini. Nella stessa zona e nel parcheggio troveranno spazio, associazioni e volontariato. La novità dell'anno è la pista di Downhill realizzata al centro sportivo a cura della New Bike Park, la società che gestisce le piste da sci e di Downhill al Monte San Primo, pochissimi chilometri sopra il ghisallo. Non mancheranno gli spettacoli, il mini concerto dei D'altro Canto con musica folk nel parterre del campo da tennis e l'organetto di Felice Pantone che si muoverà per il Gran Bazar. Per piazze e vie si muoveranno i clown e i giocolieri. I parcheggi sono numerosi e di diverse dimensioni, ben indicati così da consentire ai visitatori di non doversi preoccupare come di solito accade in occasione delle fiere. L'importante è non limitarsi ad un'area perché il Gran Bazar segue un percorso partendo dal centro sportivo o dal disagio.